Siamo nel laboratorio di Politecnico di Milano. Questo lupo è usato da ricercatori del gruppo FluidLab per investigare il comportamento dell'equipamento idraulico in condizioni di lavorazione e di normali. Il lupo è fatto di componenti diversi, inoltre delle piste, delle piste, delle piste, delle juncione e delle varie che sono usate per controllare il flusso. In alcuni test, il fluido funziona è l'acqua più una piccola quantità di sande, diciamo, circa 1% per il volume della mixtura. In alcuni tanti di ore, le varie sono completamente ammazzate. Impressione, non è? Questo, ovviamente, perché le particolari trasportate collezionano contro le superfici inneri delle varie, procurando ammazzamento strutturale e perdita del materiale. Questo fenomeno è chiamato erosione solida. I flusso in particolare sono due flusso di flusso di un fluido di carriera, che può essere oltre un liquido o un gas, misto con le particolari solide. In questo corso, vedrai che i flusso in particolare sono importanti in diverse applicazioni di ingegneria. Il design e il gestione dei sistemi di flusso in particolare ciò che dovrebbero essere dare all'interno della questione di erosione solida. Questo corso è stato sviluppato in un progetto di ricerca finanziato dalla associazione del tempo, coinvolgendo 5 partenari di 3 continenti diversi. Per trovare un buon balancio tra il rigore scientifico e il pragmatismo e il pragmatismo di ingegneria, ci troviamo a proporzionare una basi ai studenti di scienze, ricercatori di scienze, e professori di ingegneri interessati in, o che si tratta, con i flusso particolari. Ora, cominciamo!